Nuova edizione di Spazio e Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, 3.793 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 20.652 tamponi processati nell'isola, tasso di positività al 18,3% e Sicilia al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 57.618, i guariti invece 3.803. Purtroppo si registrano altre sette vittime, il conto totale dei decessi dall'inizio della pandemia in Sicilia sale a 11.135. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 652, 9 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 24 persone, due in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale Palermo si conferma la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 1.403, poi Catania con 1.296, Messina con 421, Siracusa con 395 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati più bassi. Questo lo ribadiamo è l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, poi in serata quando usciranno i dati odierni, ovviamente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Ed ora invece andiamo a vedere il consueto bollettino settimanale Covid della regione siciliana, in questo caso i giorni di riferimento vanno dal 13 al 19 giugno e si registra un nuovo incremento delle infezioni da Covid. Vediamo il servizio. Nella settimana dal 13 al 19 giugno si assiste a un ulteriore incremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incidenza di nuovi positivi è pari al più 29,07%, lo dice il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della regione siciliana. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo, Catania e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 45 e i 59 anni e tra i 60 e i 69 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni aumentano lievemente. Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati fanno riferimento alla settimana dal 15 al 21 giugno. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,47%. Risultano aver completato il ciclo primario 72.846 bambini, pari al 23,63%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,57%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,29% del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.737.260, pari alla 72,83% degli aventi diritti. Sono 1.021.374 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l'hanno ancora fatta. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose che spetta ai soggetti che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da covid. Sono state effettuate complessivamente 31.300 somministrazioni, di cui 22.659 ad over 80. E parliamo del grande caldo che attanaglia l'Italia e chiaramente anche la Sicilia. È un data di caldo che si intensifica su tutto il paese. Sarà un giovedì da bollino rosso con allerta di livello 3 su tante città italiane. Bollino, arancione invece per Catania e Palermo. Temperature che potranno superare i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia con picchi, pensate un po', di 41-42 gradi a Caltanissetta. E questa situazione è destinata a durare ancora per un po'. L'anticiclone Caronte, infatti, attraverserà il Mediterraneo con la sua vampata calda verso l'Italia per almeno 10 giorni. Dunque 10 giorni di clima assolutamente rovente, lo ripetiamo, con temperature oltre i 40 gradi e sarà un giovedì di grande allerta. Prima di passare alla cronaca vogliamo condividere con voi una bella notizia. Vi mostriamo delle immagini. Vedete, adesso si capirà meglio. Si tratta di una foca monaca, un mammifero a rischio estinzione che in Italia viene avvistato sporadicamente vicino alle isole toscane e siciliane. In questo caso è stata ripresa a largo di Brucoli, frazione di Augusta, nel Siracusano, nel Golfo Catanese ed è stata ripresa da tre uomini, Enzo Viola, Giuseppe Catania e Umberto Fasone che erano in barca e sono riusciti a immortalare, a testimoniare questo importante fatto. Il video dell'animale è stato poi inviato all'associazione Mare Camp che a sua volta l'ha postato su Facebook. Nel video si vede la foca che nuota sporgendo la testa dall'acqua e poi si gira e si immerge nuovamente. Questo è un importantissimo tassello per il Mediterraneo, scrive Mare Camp su Facebook, invitiamo chiunque dovesse avvistarla a recare il minor danno, il minor disturbo possibile e segnalare tempestivamente la sua posizione a Mare Camp o alla guida costiera. Questo è il post dell'associazione su Facebook e quindi volevamo condividere con voi queste belle immagini che arrivano, lo ripetiamo, da Brucoli, quindi dalla frazione di Augusta. Siamo quindi nel Siracusano. Ed ora passiamo alla cronaca con una prima notizia da Cireale, un duplice omicidio. Andiamo nei dettagli. Si tratta di due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni. Entrambi i catanesi, i due sono stati trovati senza vita in un casolare all'interno di un angrumeto in via Roccamena alla periferia di Cireale, per la precisione nella frazione di Pennisi. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che i due giovani la sera precedente non avevano fatto rientro a casa. Nel pomeriggio di ieri, o meglio in serata, poi è arrivata la macabra scoperta. C'è il sospetto che i due ragazzi siano stati sorpresi a rubare qualcuno li abbia feriti servendosi di un'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e quelli della compagnia di Acireale. C'è un primo sospettato, al vaglio degli investigatori dell'arma, infatti c'è la posizione di un anziano del posto, probabilmente uno dei tanti proprietari terreni della zona, ma vedremo se in effetti questa sarà la pista giusta. Se ci saranno degli aggiornamenti, chiaramente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Continuiamo con la cronaca, adesso una notizia da Enna. Il questore ha emesso un decreto di sospensione per la durata di 15 giorni e di contestuale chiusura di un esercizio pubblico situato in un comune della provincia. Il decreto in argomento scaturisce dall'attività di indagine esperita a seguito di diversi episodi di violenza avvenuti all'interno del locale, a seguito dei quali alcune persone avevano riportato delle lesioni, fatti avvenuti anche nei primi mesi dell'anno in corso. In uno di questi episodi, ad esempio a seguito di una lite scaturita all'interno del locale, uno dei soggetti coinvolti è stato ripetutamente colpito alla testa con una bottiglia di vetro. E torniamo adesso a parlare della piccola Elena dei funerali che si sono svolti ieri nella cattedrale di Catania. Queste sono le immagini, una cattedrale gremita con il feretro della piccola Elena giunto in cattedrale, accolto da un applauso e da un volo di palloncini bianchi. Tante persone ad attendere anche sul sagrato, dall'esterno della chiesa, decine di corone e cuscini di rose. Ad accompagnare chiaramente Elena in questo ultimo viaggio, in quest'ultimo saluto, c'erano papà Alessandro, il nonno Giovanni, la zia Martina, Martina Vanessa e la nonna Rosaria. L'entrada nella cattedrale della piccola è stata accompagnata da un lungo applauso, le persone si sono alzate in piedi, mentre ad ufficiare il rito funebre è stato l'arcivescovo di Catania Luigi Renna, il quale prima della celebrazione ha pregato appoggiando la mano sulla piccola bara. Tutti noi, ha detto nell'omelia, come giudici siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della città una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la sua mamma. Non credo che la piccola Elena sarebbe d'accordo con quelle parole, come ogni bambino. Queste le parole dell'arcivescovo di Catania nella sua omelia Monsignor Renna che ha esortato tutti i genitori a non insegnare la violenza delle parole ai figli, né sui social né sui nostri muri, già abbastanza sporchi, ha detto, perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli mediatici e se impara queste cose le impara da noi. Queste dunque le parole dell'arcivescovo di Catania durante la celebrazione dei funerali della piccola Elena. Funerali, lo ripetiamo, che si sono svolti ieri nella cattedrale di Catania. Ed ora invece parliamo dell'omicidio di Graziella Campagna, omicidio avvenuto oltre 30 anni fa, il 12 dicembre del 1985. Graziella Campagna che è stata uccisa, pensate un po', solo perché aveva scoperto da un'agenda smarrita tra gli abiti di un cliente, lavorava in una lavanderia, l'identità di Gerlando Alberti, boss di mafia di cui Sutera, l'uomo che è stato condannato per questo omicidio, si è sempre dichiarato innocente chiaramente, ma sarebbe stato appunto il suo braccio destro. Ebbene Giovanni Sutera, come detto il sessantenne di origini siciliane accusato dell'omicidio, uscirà dal carcere, uscirà dal carcere di Sollicciano dove attualmente sta scontando l'ergastolo. Il sessantenne potrà uscire per andare a fare del volontariato presso un'associazione di Firenze che fornisce assistenza agli anziani, mentre la sera poi dovrà rientrare in cella. Questo Stato facendo così spinge le persone a farsi giustizia da sé, non a rivolgersi alla legge. Sono parole di grande e comprensibile amarezza di Piero Campagna che commenta questa notizia. Se le persone si rendono conto che non è possibile ottenere giustizia, ha aggiunto, si sentono impotenti. Io non mi sento rappresentato da questo Stato. Ed ora invece ci spostiamo a Palermo, continuiamo a parlare di cronaca. La polizia ha arrestato un 46enne sorpreso a rubare batterie da una cabina dell'Enel. Denunciato anche il ricettatore. Si tratta di un uomo di 62 anni che il ladro ha incontrato subito dopo il furto nel quartiere Sperone. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno poi trovato nell'officina dello Sperone, risultata tra l'altro abusiva, altre otto batterie dell'Enel e due bici elettriche. Per il 46enne è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Restiamo a Palermo e torniamo a occuparci dell'attacco hacker al sistema informatico del Comune perché nonostante siano passati davvero tanti giorni continuano a esserci disagi e disservizi. Ci sono ancora tanti uffici paralizzati, settori della polizia municipale ad esempio sono parzialmente bloccati dopo l'attacco che ha messo fuori uso i computer dell'amministrazione comunale. E il caso ad esempio della polizia giudiziaria che aveva un canale diretto per comunicare le notizie di reato in procura e che negli ultimi giorni invece sono state protocollate quelle che riguardano provvedimenti urgenti da convalidare in tempi rapidi. Inoltre ci sono ancora numerose postazioni degli uffici anagrafe e della ragioneria che sono fuori uso poiché non tutti i computer sono stati attivati e non tutti potranno essere ripristinati. Questo chiaramente comporta tempi ancora più lunghi per il rilascio di documenti e di carte d'identità. In questi giorni c'è stata anche la difficoltà di poter comunicare le date di inizio lavori per le ristrutturazioni degli appartamenti. Insomma davvero tanti disagi, tanti disservizi a parecchi giorni ormai di distanza da questo attacco hacker al sistema informatico del comune di Palermo. Restiamo nel palermitano ma ci spostiamo a Carini dove squadre degli esperti nel soccorso nucleare, biologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco sono intervenute per la fuoriuscita di GPL da un serbatoio fuoriterra posto all'esterno di una villetta di Carini. Durante le operazioni di soccorso è stato effettuato lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando in torcia i residui di GPL per poi passare successivamente alla bonifica con il riempimento dello stesso con acqua. E ci fermiamo qui, possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia, non ci sono aggiornamenti ma ovviamente l'informazione continua su Sicilia24 e ci vediamo dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.